diritto penale parte speciale video lezione numero 11 aggiornamento al primo di gennaio 2018 tortura l'introduzione nel codice penale del delitto di tortura da attuazione nell'ordinamento italiano alla convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli disumani o degradanti adottata nel 1984 dall'assemblea generale delle nazioni unite il delitto di tortura è previsto e punito dall'articolo 613 bis inserito dall'articolo 1 comma primo della legge numero 110 del 2017 a decorrere dal 18 luglio 2017 il delitto di tortura punisce chiunque con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia potestà vigilanza controlla controllo cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona la condotta tipica è dunque costituita alternativamente dall'usare violenze minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà l'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico la norma richiede altresì che il fatto sia commesso in danno di persona privata della libertà personale o che sia stata affidata alla custodia potestà vigilanza controllo cura assistenza oppure ancora che si trovi in situazione di minorata difesa altro elemento essenziale della fattispecie è caratterizzato che il fatto costituente reato deve essere commesso mediante più condotte ovvero deve comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona l'articolo 613 bis individua altresì alcune fattispecie aggravate per i casi in cui il fatto sia stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio se dal fatto sia derivata una lesione personale una lesione personale grave una lesione personale gravissima o se dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima la legge 110 del 2017 ha introdotto altresì nel codice penale il nuovo delitto di cui l'articolo 613 ter che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nell'esercizio delle funzioni o del servizio istiga in moto in modo concretamente idoneo altro altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso trattasi naturalmente di reato proprio perché può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico amministrativo o giudiziario l'articolo 3 della legge numero 105 del 2017 ha introdotto una circostanza aggravante ad effetto speciale dei delitti di lesioni violenza privata minaccia e danneggiamento laddove tali delitti siano commessi con finalità ritorsiva ai danni di un componente di un corpo politico amministrativo giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato delle funzioni o del servizio ciò che caratterizza la condotta descritta nel nuovo articolo 339 bis del codice penale è la finalità ritorsiva con cui sono commessi i delitti cui l'aggravante si applica al concetto di ritorsione può assegnarsi il significato di atto compiuto come risposta ostile rispetto ad una decisione o a un provvedimento assunto dal componente di un corpo